ciao amici di privacart san cesario l'auto che vi proponiamo in vendita oggi è questa bellissima fiat panda prima di andarla più a vedere più da vicino vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale youtube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte andiamo a scoprirle insieme e come promesso vi porto a vederla più da vicino partendo dal treno essendo la versione cross abbiamo questa scocca frontale che molto stile off-road bellissima e l'allestimento è particolare perché è la connected by wind e la rende particolare anche soprattutto questo stacco tra il bianco della carrozzeria e il nero di tutte le protezioni in plastica il tettino contrasto sempre nero e questi bellissimi specchietti retrovisori arancioni carrozzeria che si trova in perfetto stato tutta originale ha soltanto un piccolo difetto che adesso ve lo mostro subito cerchi lega da 15 pollici sensori di parcheggio ovviamente non manca nulla questo è il piccolissimo segno che c'è che in controluce neanche si vede un piccolo bozzetto dovuto ad un parcheggio ha percorso pensate appena 25 mila chilometri è stata immatricolata nel 2019 ed è stata si può dire unico proprietario perché c'è in realtà un passaggio di proprietà ma è rimasta sempre all'interno della stessa famiglia ha già effettuato anche un tagliando ufficiale fiat andiamo a scoprirla più da all'interno e come potete notare il sedile del guidatore è in perfetto stato così come tutti gli altri sedili non ci sono nessun tipo di strappo o scucitura in perfetto stato anche tutta la strumentazione di bordo è davvero ricco anche qui abbiamo la radio uconnect il climatizzatore con l'aria condizionata cambio manuale a cinque rapporti manopola del cambio perfetta abbiamo tanti anche supporti per i telefoni per i smartphone qui questo qui che addirittura la ricarica integrata che sono tutti dovuti a questo allestimento connected by wind anche questo qui sopra molto molto comodo per amici prima di portarvi su strada abbiamo fatto anche un test anche se non ce n'era bisogno dato l'auto nuova per testare l'accensione i fumi dagli scarichi che ovviamente è stato provato senza è stato superato scusate senza problemi bene non ci resta che andare su strada e vedere come si comporta questo 1.2 benzina da 69 cavalli vi consiglio di vederlo perché c'è un dato relativo ai consumi davvero davvero interessante andiamo molto comoda la guida posizione alta volante leggerissimo si è inserito soprattutto nella modalità city che è ottima e molto comoda soprattutto nel traffico cittadino e per i parcheggi bello anche il l'abitacolo che è molto molto silenzioso così come il motore non abbiamo riscontrato rumorosità neanche nell'avantreno dato che l'auto è praticamente pari al nuovo e pronta consegna e cosa importantissima in questo periodo interessantissimo anche il dato sui consumi parliamo infatti di un dato registrato di 17.3 chilometri con un litro e parliamo vi ricordo di un 1.2 benzina da 69 cavalli adesso siamo pronti anche a fare il test per l'accelerazione e la frenata che ci interessa soprattutto su quest'auto siamo pronti e partiamo molto interessante lo spunto ovviamente il pedale della frizione è morbidissimo è nuovo siamo pronti a frenare a 70 ottima frenata si è attivato l'abs l'auto si è inchiodata senza problemi non abbiamo avuto neanche sbandamenti sul posteriore non è clamorosa la progressione è mai interessante davvero lo spunto molto molto interessante parlando dell'allestimento che è molto molto ricco e abbiamo tra le varie cose e i comandi al volante abbiamo il climatizzatore con aria condizionata che funziona lo sto testando perfettamente abbiamo start stop settore di per il volante per impostarlo sulla modalità city abbiamo la radio un connect e tante tante porte usb e anche tantissimi come abbiamo visto prima porta telefono sia sul qui sulla plancia anche qui sui comandi più in basso il cambio manuale a cinque rapporti e tanto tanto altro che vi consiglio di scoprire visionando l'annuncio sul nostro sito www.primapagar.com sezione san cesario bene amici dopo averla testata anche su strada vi ricordo che per provarla vi basterà contattarci ai numeri che trovate in sovraimpressione e fissare un appuntamento ciao